La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma ha ospitato il convegno In Italia Religiosamente Diversi, organizzato in collaborazione con l'Università di Padova. L'incontro si pone a conclusione della ricerca PRIN 2008, che ha visto impegnati diversi atenei italiani al fine di creare una mappa attendibile delle diverse realtà religiose presenti in Italia, che siano vecchie, nuove e nuovissime. Le realtà religiose sono distribuite in una maniera che rispecchia i paesi dai quali provengono, dove ci sono più persone al Nord Africa che chiaramente prevalgono i musulmani. Ad esempio a Roma, dove i nord africani sono poco numerosi, fate eccezione degli egiziani, l'incidenza dei musulmani è molto più bassa rispetto alle altre parti d'Italia. Il livello di convivenza è abbastanza buono, però dal livello di convivenza, cioè di non disturbarci a vicenda, bisognerebbe passare sempre più all'apprezzamento, perché ogni religione ha dei valori che meritano un grande apprezzamento. Le grandi religioni hanno dei grandi insegnamenti. Passare all'apprezzamento e passare alla collaborazione per realizzare nel mondo opere di pace. Qual è la nuova mappa socio-religiosa dell'Italia che cambia? La mappa è fatta di più mappe, perché ormai abbiamo una presenza molto diversa. Sono ortodossi, un milione e mezzo, musulmani un milione e quattro, abbiamo buddhisti, induisti, e poi abbiamo molte chiese africane, latinoamericane e asiatiche di ispirazione del mio Pentecostale. Questa mappa è arricchita ancora dalla presenza di Sikh, abbiamo 39 templi Sikh, soprattutto tra il centro-nord e il Lazio. Dunque è una mappa che rende l'Italia non più un paese prevalentemente cattolico, ma un paese a più colori religiosi. Lo studio presentato ha posto l'accento sul rispetto delle diverse sigle che gestiscono i luoghi di culto all'interno della stessa religione e sull'attenzione alla pluralità, che non può essere generalizzata. Com'è possibile far conoscere le diverse realtà religiose, nuove, nuovissime, e soprattutto porre l'accento sulla pluralità all'interno di ogni religione che si affaccia sul territorio italiano? Bene, questa è un po' la scommessa che pensiamo di accettare per passare da una stima molto generica di quante sono le persone di diverse fedi religiose in Italia. Andiamo a vedere quali sono i luoghi di culto, cerchiamo di parlare con i diversi leader religiosi e cerchiamo di capire se questi luoghi di culto, pur appartenendo a una fede religiosa, in realtà rappresentano diverse tendenze. I relatori hanno illustrato il quadro specifico di alcune religioni presenti sul nostro territorio, raccontando realtà poco note come quella delle nuove chiese pentagostali di Torino. Torino ha una lunga storia di differenziazioni religiose perché con i valdesi da metà ottocento ha visto la presenza dei cattolici molto meno maggioritaria che altrove, ma quello che sta avvenendo da questi ultimi vent'anni è esattamente la moltiplicazione delle chiese pentecostali, un tempo si dicevano etniche, costituita esattamente da immigrati. A Torino sono oltre 30 e rappresentano chiese che sono composte sia da africani, sia ultimamente provenienti dall'America Latina e direi in questi ultimi anni soprattutto dall'ex Unione Sovietica e in particolare dalla Romania. Dal dibattito è emersa la possibilità di una nuova mappa religiosa nazionale dai tratti inediti. Ciò a cui si tende è una religione globale ottenuta attraverso l'intercultura che potrebbe modificare il volto non solo religioso ma anche sociale dell'Italia. Grazie a tutti.